Piedi per terra, nonostante la Serie D, stando alle parole dei vertici del calcio regionale, non tarderà ad arrivare e presto diventerà realtà per il Molfetta. Per il momento ci sentiamo con due piedi ancora in eccellenza, perché nonostante tutti ci diano come certi per il salto di categoria, noi siamo abituati comunque a mantenere sempre i piedi per terra. Quindi onestamente in questo momento attendiamo con fiducia quelle che sono le comunicazioni che ci arriveranno, speriamo a breve, dall'organo federale, dal governo regionale. Quindi attendiamo con fiducia, perché chiaramente occupando la prima posizione in classifica crediamo che al di là di quelle che possono essere, ovviamente facciamo gli scongiuri, l'eventuale annullamento del campionato, chi è prima in classifica sostanzialmente, come ha detto il presidente Vito Tisci tempo fa in una sua dichiarazione personale, sicuramente potrà avere dei vantaggi. Festa, in ogni caso sarà festa per la vittoria del campionato di eccellenza, Biancorossi prima in classifica al momento della sospensione, con 6 punti di vantaggio sul Corato. La festa, quando arriverà l'ufficialità, sarà giocoforza però diversa da quelle tradizionali per una promozione. Bisognerà inventarsi qualcosa di alternativo e rispettare soprattutto l'enorme anticontagio. Dobbiamo pensare ad una festa con nessun tipo di assembramento. Farebbe da contraltare invece a quello che è l'entusiasmo, che è diventato un entusiasmo contagioso, perché siamo partiti dall'inizio del campionato dove c'era un po' di titubanza, c'era qualche dubbio e c'era un entusiasmo che vedeva la piazza un po' restia. Poi è stato un crescendo grazie a un lavoro straordinario che ha fatto la squadra insieme allo staff tecnico e sono stati capaci di far riavvicinare quello che era il gruppo storico dei tifosi, dei simpatizzanti di Molfetta e della Molfetta calcio in generale. Quindi sotto questo punto di vista dobbiamo necessariamente, visto il periodo di pandemico che comunque stiamo attraversando, ad un'eventuale festa senza nessun tipo di assembramento. Il primo confermato della lista per il Molfetta, a prescindere dalla prossima categoria, sarà il tecnico Renato Bartoli. Se la proprietà vorrà ripartire dai protagonisti di questa stagione fantastica, penso che ci siano comunque tutti gli elementi perché questa cosa possa andare in porto.